Nel frattempo possiamo fare entrare un'altra bellissima coppia di balleri Lei è supera e ragazzissima Alessandra E questo bel giovane si chiama Emanuele Ci parlavano le altre standard Quindi vanno le stesse e iniziando Loro si preparano anche per le competizioni sportive Quindi ci faranno vedere le loro coreografie da gara E tutto a tutto sta terra ci poteranno le 3 coreografie che porteranno quest'anno Nella loro categoria che è da 19-38 anni Quindi non dirà per tutti le loro coreografie di gara Emanuele Alessandra 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.